Allegri ha perso le staffe con un giornalista. Dopo il pareggio contro il Genoa, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky e Gianfranco Teotino, giornalista, gli ha chiesto se non fosse il caso di cambiare sistema di gioco, visti gli ultimi risultati deludenti. Il tecnico della Juventus ha risposto in modo molto acceso, dicendo «Io non mi permetto di dire a lei come fare il giornalista. Mi faccia una domanda più intelligente. Voi non dovete capire, ma fare solo domande. Poi la squadra la alleno io. Secondo te ha ragione».